Potremmo dire che come esseri umani siamo programmati per ricevere amore, quindi chiederlo, e essere anche confermati nella nostra identità come persone, quindi convalidati potremmo dire. E questo bisogno è ancora più forte durante l'infanzia. Nei nostri primi anni di vita veramente guardiamo i nostri genitori come se loro potessero dirci chi siamo e aprirci delle porte e quindi delle possibilità nella vita. Perché è una fase in cui è come se noi stessimo ancora progettandoci e abbiamo bisogno di punti di riferimento, di indicazioni. E un genitore è proprio la persona più indicata per offrirci questa visuale, questa possibilità di avere una direzione, di dirci chi siamo e cosa vogliamo. Questo potrebbe succedere soprattutto se hai un genitore sufficientemente buono, come direbbe Winnicott. Cioè una persona che sa soddisfare i tuoi bisogni, che capisce i tuoi desideri e che è abbastanza una persona individuata ed equilibrata in modo tale da indicarti egli stesso o ella stessa la strada che ti potrebbe essere utile per scoprire i tuoi talenti, il tuo posto nel mondo. Ma se invece di un genitore sufficientemente buono ti trovi di fronte un genitore con un disturbo, ad esempio di personalità, come potrebbe essere un disturbo narcisistico di personalità. Probabilmente in questo caso i tuoi bisogni non sarebbero soddisfatti, anzi probabilmente verrebbero negati se non addirittura a volte ostacolati. E allora potrebbe succederti che da adulto continui ad essere dentro a quella trappola, cercare comunque costantemente la loro convalida, cercare comunque costantemente di essere amato da loro, perché senti di avere ancora questo bisogno molto forte, anche nella tua età adulta. E probabilmente accanto a questo continui a sperimentare la frustrazione di non avere accanto a te un genitore che prima o poi ti dirà quelle parole che avresti voluto e che vorresti ancora per poterti liberare e sprigionare tutto il tuo valore. E' come un po' se cercassi la sua benedizione. Molto spesso io cito questa frase di una canzone di Giovannotti in cui dice Sognai i miei vecchi sorridenti in riva al mare, guardare la mia barca andare via, benedicendo la mia rotta dentro al cuore. Perché questo è un desiderio che secondo me, riassunto in maniera molto poetica, corrisponde a quello che abbiamo dentro. Cioè il desiderio di essere benedetti dai nostri genitori nella nostra rotta che abbiamo dentro il nostro cuore. Ma non è sempre possibile, e se hai a che fare con un genitore con un disturbo di personalità narcisistico, sicuramente hai già dovuto subire l'impossibilità di ricevere una benedizione da lui o da lei. Perché avrai subito riconosciuto la sua incapacità di riconoscere, di intuire i bisogni del figlio. E di sicuro ti sarai anche reso conto o resa conto che quella parola amore incondizionato è qualcosa di difficile per una persona con questo disturbo. Anzi, generalmente il loro, tra virgolette, amore è sempre condizionato a qualche loro bisogno o desiderio. E credo che il tuo bisogno costante di guadagnarti il loro amore rimarrà qualcosa di incompiuto nella vita, perché non succederà mai probabilmente che loro ti diranno che ti sei guadagnato o guadagnata la loro ammirazione e il loro amore. E quindi rimarrà una costante frustrazione da viversi lungo tutta la propria vita di figli. E allora iniziamo a dirci quali potrebbero essere le caratteristiche per cui puoi accorgerti di avere un genitore con un disturbo narcisistico di personalità. Perché come spesso sottolineo, non è una questione di essere un po' vanitosi, di essere un po' alla ricerca del consenso degli altri, di essere un po' alla ricerca del successo o essere ambiziosi sul lavoro. Non è questo, essere affetti da un disturbo di personalità. È qualcosa di molto più complesso. E allora iniziamo a dirci alcune caratteristiche che possono metterlo in evidenza. Una caratteristica è sicuramente quella di trascurare i tuoi bisogni emotivi. Secondo, è una persona che anche di fronte all'evidenza di aver commesso un errore, aver fatto uno sbaglio, non lo ammetterà mai. Non avrai mai sentito da lui o da lei una scusa e non avrà mai ammesso che possa esistere un punto di vista diverso dal suo. Terzo, ti paragona spesso alle altre persone in maniera ovviamente sfavorevole. Quarto, non vuole semplicemente essere voluto bene dai propri figli. Esige costante ammirazione, adorazione e obbedienza da parte dei propri figli. Quinto, quando hai a che fare con lui o con lei, sei costantemente in ansia perché ti sembra che ogni volta voglia strapparti qualcosa che va oltre i limiti che avresti deciso. Ti chiede sempre qualcosa in più. È come se tu avessi a che fare sempre con una persona che tende a manipolarti. Ed è una sensazione che ti fa restare sempre molto sulla difensiva. Sesto, hai avuto l'esperienza durante la tua vita in cui magari hai cercato di mostrarti più forte, più indipendente, autonomo, che in quel momento scatta come una fase in cui sei trattato con distanza, con freddezza, cioè tutto ciò che riguarda il tuo tentativo di avere più potere, quindi di essere più indipendente, è sempre ostacolato, molto spesso con la freddezza e la distanza, col distacco. Sette, raramente fa cose per te, ma tu lo sai già che nel momento in cui ha fatto qualcosa per te, te lo rinfacerà per sempre, te lo fa pesare perché l'obiettivo nel fare qualcosa per te è che tu ti senta in colpa e che tu possa provare un segno di riconoscenza nei suoi confronti. Otto, vivi sempre una doppia vita. Quella privata a casa, quella delle relazioni più intime, è quella pubblica e ti rendi sempre conto che la persona con cui ha a che fare, il genitore con cui ha a che fare, è una persona in casa, nel privato e una persona nel pubblico, cioè quando è insieme ad altri e fai fatica, soprattutto in certe situazioni, a capire se è sempre la stessa persona, perché a volte è feroce, aggressivo o aggressiva, ti maltratta e appena si chiude la porta di casa, sorrisi a tutti e ti mostra come se fossi un trofeo se hai fatto qualcosa di buono e non sembra neanche la stessa persona, è gioviale, ride, scherza, ma tu sai che appena ritornerai a casa e si richiuderà la porta, in quel momento cambierà completamente l'espressione e diventerà di nuovo quella persona aggressiva, cattiva a volte nei tuoi confronti che ti fa sempre sentire sbagliato. 9. A volte ci caschi, nel senso che ti sembra che ti dia la possibilità di dire una tua opinione, a volte anche un po', come potremmo dire, critica, cioè di far osservare che forse quella cosa non è venuta bene, forse quella cosa poteva essere fatta meglio. Bene, ogni volta che tu caschi in questo tranello sai che le conseguenze sono terribili, perché si offende, tu lo sai che non accetta nessun tipo di critica, ha delle reazioni esagerate e ogni volta che ti capita di esprimere appunto un tuo parere che non è proprio secondo i dettami del punto di vista del tuo genitore narcisista, ne paghi le conseguenze con una litigata furiosa, una rabbia magari a volte esagerata e quindi ogni volta ti riprometti di non dire mai più nulla. 10. Molto spesso, dopo una litigata appunto, ti capita di subire il silenzio punitivo. Usa il silenzio per farti sentire in colpa, per far sì che di fronte a una situazione di conflitto tu sia la persona che inizia a chiedersi che cosa ho sbagliato e molto spesso, tu lo sai, il trattamento del silenzio che ti sta riservando in maniera punitiva si interromperà in maniera inaspettata, forse perché quel giorno gli è successo qualcosa di buono e quindi ti rivolgi nuovamente alla parola, ma non è legato a quello che fai. Molte volte vieni punito per qualcosa nonostante che tu non sappia che cosa sia successo, ma quello che provoca dentro di te lo sai, che è un senso di inadeguatezza, la paura di non essere accettato dal tuo genitore, il fatto di pensare che lui non ti voglia più bene, di sentirti annientato e molte volte sei molto tentato o tentata di chiedere scusa, di implorare il perdono per qualcosa che fondamentalmente nemmeno tu sai che cosa sia stata, ma sei disposto a fare tutto questo per poter far cadere questa sensazione terribile di essere stati eliminati dalla sua vita. Ricorda che il silenzio punitivo è un trattamento molto violento che fa stare molto male, soprattutto quando si è molto piccoli. Ci sono molte altre caratteristiche che riassumono il fatto che non ha assolutamente empatia nei confronti degli altri, non gli importa se gli altri soffrono, li può osservare ma non provare nulla, che non ha rispetto per i tuoi limiti, che tu dici guarda non piombare a casa mia quando io sono con mia moglie o mio marito o i bambini o il fidanzato e lo fa regolarmente perché non accetta che qualcuno gli dica che non può fare quella cosa, non portare i bambini a ti prego non comprare questi giocattoli ai bambini che ne hanno già tanti e sicuramente si presenterà con tanti giocattoli, soprattutto se tu hai una tua famiglia, sicuramente l'hai sperimentato da sempre, non ha rispetto di nessun limite che tu possa dare, anzi ogni volta che dai un limite sembra che sia il momento giusto per cui lui o lei possano cercare di infrangerlo e superarlo. E altresì ipercritico con tutti, non fa mai un discorso in cui un'altra persona possa aver avuto un'idea migliore della sua, tutti sono scemi nella vita, tutti hanno meno capacità di loro e se loro non riescono a ottenere il successo che hanno desiderato è sicuramente perché qualcuno non gli ha dato ciò che meritavano, sono stati defraudati da quel successo. E crescendo ti rendi anche conto che difficilmente hanno delle amicizie vere, persone accanto sane perché di solito tendono a rifiutare tutti e a isolarsi perché nessuno è veramente alla loro altezza, soprattutto nel momento in cui la persona che hanno di fronte li smaschera nella loro insicurezza, fragilità, incapacità. Ma il problema, vero detto tutto questo, è che tu sei il figlio. E allora come puoi cavartela con un genitore del genere? Perché col passare del tempo ti stai rendendo conto che non stanno cambiando. A volte hai fatto dei tentativi, hai cercato di parlargli in maniera calma, hai cercato di spiegare il tuo punto di vista, hai cercato di mettere in luce il loro comportamento e come dicevamo prima, molte volte ti sei sentito rifiutato, trattato male, a volte addirittura aggredito perché hai osato esprimere un tuo parere negativo nei loro confronti. Oppure trattato col silenzio punitivo, quindi per giorni, settimane, a volte mesi, non hai avuto da loro una parola perché ti sei permesso di mettere in crisi o in dubbio alcune cose che fanno o il vostro rapporto. E la sensazione che hai è che le cose non cambino, non sono mai cambiate e probabilmente non cambieranno mai. Quindi questa idea del genitore che tu avevi nella tua testa come un genitore sufficientemente buono che ti aiutasse nella vita a trovare il tuo posto, devi iniziare a fare i conti col fatto che probabilmente la devi abbandonare. Io molto spesso nei video ripeto questa frase che per me è molto importante. Perché ascoltare un video del genere in cui vengono messe in luce tutte queste caratteristiche? Perché è importante conoscere quello che ci sta capitando e conoscere vuol dire riconoscere, riconoscere dei comportamenti e quindi avere più potere nella propria vita e nella propria relazione. Perché nel caso specifico dei figli di genitori narcisisti probabilmente c'è il bisogno di abbandonare quel sogno che non si avvererà mai, che loro riconoscano il tuo valore e che mettono in dubbio il proprio essere genitori non adeguati. È un sogno probabilmente da abbandonare. Ma molto spesso mi rincuora il fatto che come commento sotto alcune situazioni descritte come hai a che fare con una madre narcisista, hai un compagno narcisista, comunque con questo disturbo, nel momento in cui le persone riconoscono questi comportamenti è come se se ne liberassero un po'. Perché è come togliere tutta la responsabilità di una relazione che non funziona, che non funzionerà probabilmente mai, da se stessi. Perché è chiaro che quello che succede con una persona con disturbo narcisistico di personalità dipende nel 99,9% dei casi da cose personali sue, cose che vive e che quindi agisce con gli altri. Generalmente chi si rapporta con loro sbaglierà sempre qualcosa, avrà detto sempre la parola sbagliata e quindi non avrà mai il controllo della relazione se cercherà di comunque farla migliorare. Perché dipende da loro, dal loro disturbo. Ma sapere questo generalmente ha un effetto liberatorio nella relazione. E allora inizia a dirti queste cose. La prima è che tu non hai qualcosa di sbagliato per cui le cose vanno male col tuo genitore narcisista o che tu sei un fallimento perché le cose non vanno bene. E allora potresti accorgerti che quelle volte che ci rimani male per certi comportamenti o mancanze di rispetto nei tuoi confronti, dei tuoi limiti, delle critiche assurde, aggressioni, che hai subito trattamenti del silenzio, non dipendevano dal tuo brutto carattere ma dall'avere a che fare con una persona con questo disturbo di personalità. Secondo, se i tuoi genitori hanno un disturbo, se comunque tu sai che questo disturbo probabilmente non cambierà. Forse anche in questo caso cambiare punto di vista è molto importante. Perché allora accanirsi nel cercare di far capire loro quello che è successo e quindi perché non dovevano comportarsi in un certo modo? Forse l'atteggiamento migliore che puoi avere è quello di avere compassione per loro, pensandoli come delle persone che hanno una disfunzione, cioè che non funzionano correttamente. Ma questo non vuol dire che quello che fanno non ti ferisca. Ti ferisce certamente, però se tu poni dei limiti al loro contatto invece di inseguirli e cercare tutte le volte di conquistarli, probabilmente diventa una relazione migliore perché è meno frustrante. Non aggiungiamo sofferenza almeno al dolore che si prova nell'avere a genitori così. Perché non è che uno scelga di diventare narcisista o con un disturbo di personalità. purtroppo queste cose capitano ed è una gabbia in cui si rinchiudono. Certo, sono convinto che poi questa gabbia sia anche fonte di dolore per le persone che hanno intorno e su questo non ci piove. Ed è il motivo per cui ci sono tante persone che soffrono intorno a persone che hanno questo tipo di disturbo. Però non è un qualcosa che loro hanno scelto su un catalogo e hanno detto ma sì, guarda, vorrei proprio diventare narcisista. Non funziona così. E allora capire che qualcosa che è successo ed è così può essere una facilitazione nel cercare di accettare che è questa la situazione. E quindi quello che io posso fare non è tanto cambiarli, ma cercare di gestirli al meglio. Però se nel momento in cui stai guardando questo video, stai entrando o sei nell'età adulta, quello che ti puoi chiedere è ma perché comunque io continuo a cercare questa approvazione da parte loro, questo amore incondizionato, questa approvazione è convalida? Perché non riesco a farmene una ragione? È vero che se nell'infanzia una persona ha un legame traumatico come potrebbe essere quello con un genitore, con un disturbo di personalità, il rischio è quello di crescere con tante insicurezze. Perché è come se ci sentissimo privati di alcune attrezzature, di dotazioni che hanno invece gli altri bambini che ricevono delle convalide e quindi degli apprezzamenti o delle conferme rispetto alla loro strada. Però c'è un momento nell'età adulta in cui una persona può iniziare a prendersi cura di sé e cercare di capire che è andata in questo modo. Non è colpa tra virgolette di nessuno, soprattutto non è certo colpa del figlio aver scelto dei genitori così, ma comunque vada, io me la devo cavare. Anche se sono stato il capo espiatorio all'interno di quella famiglia, quindi sono sempre stato vessato e maltrattato, c'è un momento in cui devo chiedermi quindi come voglio proseguire il mio viaggio? Soprattutto non bisogna mai cadere nel tranello che se si facesse qualcosa in più, come ci dice il genitore narcisista, probabilmente otterremo quell'approvazione che vorremmo perché non succederà mai. Perché lo hai già sperimentato mille volte che sei riuscito a fare quella cosa che loro volevano assolutamente e quindi ti hanno dato approvazione e riconoscimento per dieci giorni esagerando, ma poi le cose tornano comunque come prima perché non sarai mai abbastanza per soddisfare il loro bisogno egoico. E questa oscillazione continua tra ti vogliamo bene se fai così oppure non sei bravo perché non hai fatto quello, crea una dipendenza affettiva nei loro confronti, per cui diventa quasi un'ossessione dover ottenere la loro approvazione. Credo che davvero una cosa molto importante sia fare un lavoro su di sé. Cosa vuol dire? Intendo che una persona inizi a cercare dentro di sé, dentro a quello che vive, a quello che struttura nelle relazioni con gli altri, nella realtà esterna, le proprie virtù e capacità. E probabilmente hai incontrato nella tua vita, se hai avuto dei genitori così, delle persone che ti hanno riconosciuto nei tuoi talenti, che ti hanno detto delle cose positive. E puoi cadere in due tentazioni. La prima è di dare a loro tutto il potere e quindi ricadere nel ciclo che se loro ti approvano vali qualcosa, oppure se loro non ti approvano non vali abbastanza, che è quello che hai già sperimentato col genitore. Oppure puoi cercare di prendere quello che loro ti dicono come un aspetto importante della tua vita, cioè il fatto che loro riconoscano le tue qualità, ma per riconoscertele dentro a te stesso, dentro di te. E quindi iniziare ad avere tu la capacità di leggere quali sono le tue potenzialità. Il tuo essere persona con un tuo carattere, come tutti del resto, che ha delle difficoltà a relazionarsi con gli altri in certe situazioni più o meno come tutti e che però ha grandi margini di miglioramento e può stabilire delle relazioni molto soddisfacenti. Ma per fare questo è importante allora a quel punto iniziare ad avere 1. Consapevolezza di quello che hai vissuto e di quello che stai vivendo e quindi essere molto portato a leggerti nelle tue parti più profonde. 2. Iniziare a pensare che tu per te stesso sei la persona più importante che ci sia. E questo non vuol dire che toglierai qualcosa a qualcun altro, perché non vuol dire questo, dare a se stessi il primo posto. Vuol dire che è importante stare con gli altri perché tu stai bene con te e se tu stai bene con te, stai bene con gli altri. E allora devi iniziare a dare come priorità il tuo benessere. Non riconquistare l'amore di qualcun altro a tutti i costi, nonostante questo ti faccia soffrire e stare molto male. Soprattutto se il bisogno di riconquistare è legato ai propri genitori, che comunque non ci daranno mai una convalida. Lavora sul fatto che devi a volte rispettare, tra virgolette, accettare che altre persone possano non cambiare. Ma non per questo tu devi comunque continuare a rapportarti con loro nelle stesse modalità. Io sconsiglio generalmente di prendere di petto un genitore narcisista perché non ha senso, perché ha due possibilità. Se è abbastanza forte reagirà aggredendo e quindi diventando molto pericoloso anche a volte nella sua reazione, sia verbalmente che fisicamente. Oppure potrebbe prendere la parte della persona vittima e anche questo non ti libererebbe. È molto più importante invece accettare che non cambino e iniziare a dare loro dei limiti, cercando di farli rispettare e ogni volta provare ad affermarti un po' di più perché questo invece ti renderà più forte anche nelle relazioni con gli altri. E altra cosa che molto spesso dico è molto ma molto importante il contorno di persone che abbiamo. Cioè le persone che stanno nella nostra vita con noi, che possono essere dalle persone più vicine, il coniuge, i propri figli, i propri parenti più stretti che non sono narcisisti oppure amici importanti, persone che stimiamo, colleghi. Però è importante confrontarsi con persone che noi reputiamo tra virgolette sane. Quindi anche loro con dei difetti, con dei limiti di carattere che però non hanno questo disturbo e con loro iniziare a scoprire tutte le nostre parti, quelle che funzionano meglio, quelle che funzionano peggio e accettarle. Perché molte volte quella che è la condanna più grave che subiamo avendo avuto dei genitori del genere è che non accettiamo quello che è stato. E invece la strada è proprio quella di dire loro sono così. Probabilmente, molto probabilmente, non cambieranno mai. Io però non sono quella cosa. Io posso essere molto di più, posso essere molto meglio, posso vivermi una vita molto piacevole e soddisfacente, però lo devo fare accettando che anche io ho delle difficoltà, facendomi aiutare, stabilendo dei limiti, dando valore a quella che è la mia autostima, a quelle che sono le mie capacità e cercando nuove connessioni, nuovi rapporti con persone che possono aiutarmi a fare questo percorso. Se sei arrivato fino a questo punto del video e se ti piace il modo in cui io parlo di questi argomenti, se ti piace il modo in cui io gestisco il canale, se non l'hai ancora fatto, ti chiederei di iscriverti e se vuoi darmi un supporto concreto ti chiederei di abbonarti qua sotto al link che lascio in descrizione in modo tale che mi offrirai un caffè virtuale al mese col quale mi riconoscerai il mio impegno a divulgare questi argomenti.